La condanna ad otto mesi per i 200 milioni di lire della maxi tangente Enimont è certamente la più significativa in quanto al processo Cusani, durato 16 mesi e conclusosi il 27 ottobre del 1995, il remerso che anche la Lega aveva usufruito di finanziamenti illeciti. Per i fatti di via a Bellerio del 18 settembre del 1996, quando i leghisti opposero resistenza agli agenti di polizia che cercavano documentazione nella sede della Lega su ordine della magistratura di Verona, il senatore fu condannato a quattro mesi, 20 giorni in meno rispetto a Roberto Maroni. La Cassazione il 15 giugno del 2007 ha confermato la condanna per vilipendio alla bandiera nei confronti sempre di Umberto Bossi, che era stato condannato in primo grado anche dal tribunale di Cantù il 23 maggio 2001 ad un anno e quattro mesi per avere detto frasi offensive nei confronti del tricolore il 26 luglio del 1997. In seguito la Corte di Appello di Milano, con sentenza del 14 novembre 2006, aveva commutato la condanna in una multa di 3.000 euro, concedendo la sospensione condizionale della pena. Bossi è stato condannato a cinque mesi di reclusione nel novembre 1995 dal tribunale di Brescia per diffamazione pluriaggravata nei riguardi del sostituto procuratore di Varese, Agostino Abate, insultato in occasione di alcuni comizi. Nel settembre del 1996 il leader leghista era stato iscritto nel registro degli indagati dalla procura di Padova per le minacce rivolte alla magistratura in un comizio. Le cause anche civili intentate a Bossi dai magistrati sono numerose. Il 7 maggio del 1999 i giudici della Corte d'Appello di Brescia lo hanno condannato ad un anno per istigazione a delinquere ai danni del presidente di Alleanza Nazionale Gianfranco Fini e di altri esponenti di Enne. I fatti si riferiscono al 4 agosto del 1995, quando Bossi nel corso di due comizi a Brembate e ad Albano Sant'Alessandro nel Bergamasco aveva invitato i leghisti a cercare casa per casa i fascisti ed aveva specificato che per fascisti intendeva anche gli esponenti di Alleanza Nazionale che aveva definito tra le altre cose il fettore peggiore del Parlamento. Infine, per avere dichiarato che 100.000 bergamaschi erano pronti con i fucili a fare la secessione, Umberto Bossi fu condannato ad un anno di reclusione in primo grado.